Emanuele, caspita, terza gara? Sì, terza gara, sì. Eh beh, direi che ti stai ambientando per il mondiale, direi che era il momento giusto per farlo. Sì, sì, mi sto trovando molto bene, sono molto contento di come stiamo andando. Sei stupito di un risultato così al top, sei terzo di gruppo, è così che ci si può iniziare a giocare un mondiale? Vorrei sapere il tuo feeling, le tue sensazioni. Sì, inizio, comunque terza gara, all'inizio non credevo andare così forte, anche perché secondo me c'è bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, però già ho visto la Champions League Future, quel position, materiale veramente fortissimo, quindi adesso vediamo nelle manche, però sono molto contento di come stiamo andando. Sei giovanissimo, ti abbiamo visto crescere dalla mini, l'OKJ, poi subito il passaggio in OK, sei cresciuto in fretta, bisogna dire, e sempre andando forte, sei sempre dimostrato di essere davanti. Come vivi il tuo primo mondiale in OK, giusto? Sì, il primo mondiale in OK, cerco di divertirmi, ogni categoria sono molto forte, adesso vediamo se riesco a fare qualche risultato, però comunque so, cerco di divertirmi e comunque stiamo andando molto forte. Si sente pressione o è solo divertimento? Un po' di pressione, anche perché in gara non ho tanta pressione, però certo c'è sempre pressione per fare un po' di risultati, però comunque il primo mondiale in OK ho tanta pressione. Quando inizi poi con un risultato come questo direi che sei forse anche un po' più sereno. Sì, sì, anzi sono più sereno quando porto davanti che dietro. Sicuro, complimenti. Grazie.